Formazione, banda larga, infrastrutture sono le sfide future per il neopresidente del gruppo territoriale di Confindustria Tiguglio, Giancarlo Durante, succede a Massimiliano Sacco, lavorerò dice nel segno della continuità. Dopo lo stop a causa del lockdown sono ripartiti i lavori ai giardini di Piazza del Buono a Chiavari, la conclusione è prevista per l'autunno, il comitato di quartiere valuta se prendere in gestione la struttura. La cassa processionale di San Giorgio Moneglia torna al suo antico splendore grazie ad un restauro lungo e impegnativo che ha permesso di consolidarne la struttura e ravvivare i colori. Serata Panatron a Rapallo nel segno dei giovani e dei nuovi soci, prima conviviale del gruppo Tiguglio Occidentale, presente alla serata il giornalista sportivo Emanuele Dotto. Calcio nel campionato di Serie B, pareggio in extremis della Virtus Entella sul Pisa grazie alla rete di Michele Pelletier, un punto prezioso in ottica a salvezza, venerdì si gioca ad Empoli. Buongiorno ai telespettatori di Tiguglio, oggi Giancarlo Durante è stato nominato nuovo presidente del gruppo territoriale di Confindustria, succede a Massimiliano Sacco, al suo fianco nel direttivo la vicepresidente Vittoria Bixio, legale rappresentante di Villa Ilia a Sestre Levante. Durante intende guidare il gruppo nel segno della continuità e in agenda mette banda larga per l'entroterra, il tunnel della Fontena Buona e formazione tra i giovani. L'abbiamo intervistato. Sarà un biennio di sfide quello che attende il neopresidente di Confindustria Tiguglio, Giancarlo Durante, che promette continuità con i precedenti mandati di Massimiliano Sacco. L'emergenza Covid, spiega, ha segnato molte aziende del territorio e il futuro non appare eroseo. Stiamo vedendo un tentativo di ripresa però anche i gruppi, sia automobilistici, sia quelli dei produttori climatici che mi riguardano poi direttamente perché la mia azienda fornisce quel settore, navigano a vista loro per primi, per cui ordinativi frammentari fatti di settimana in settimana senza avere una visione di prospettiva. Già c'è una riduzione fortissima sui fatturati rispetto all'anno precedente, ma io temo che l'autunno per tante aziende possa diventare veramente critico da un punto di vista della liquidità. I provvedimenti del governo, in particolare il decreto liquidità, ad oggi sono carenti, prosegue il neopresidente degli industriali, soprattutto dal punto di vista delle scadenze, delle garanzie e della burocrazia. Per le piccole aziende abbiamo una garanzia di Stato al 90% ed una scadenza a sei anni. Lei capisce bene che una scadenza a sei anni per un'impresa è un tempo brevissimo e spesso in questo momento vengono richieste anche delle somme importanti che difficilmente possono essere rimborsate in periodi così brevi. Giancarlo Durante lavorerà sulla formazione, sul rapporto con le scuole, sui convegni e sulle novità infrastrutturali per l'entroterra. La banda larga deve essere estesa a tutto l'entroterra, a tutte le valli, che poi sono i bacini dove ci sono le aziende, un grande numero di aziende che hanno bisogno di comunicare in maniera efficiente. Poi sono le infrastrutture intese come strade, come viabilità, come tunnel della Fontana Buona. E a proposito di infrastrutture, continuano i disagi al traffico autostradale. Il nodo autostradale di Genova è stato paralizzato anche nella mattinata di oggi. Notizia che andiamo a leggere sul sito di Ansel Liguri. Il traffico è congestionato in A7 e in A10, dove si registrano rispettivamente 14 e 9 km di coda. In A7, in direzione Milano, il traffico è incolonnato tra Genova, Bolzaneto e Roncoscrive, a causa della chiusura del tratto per il rifacimento dell'asfalto. In A10, la coda di 9 km è tra Genova e aeroporto. Il Bivio, a 10 e 26 di trafuori, in direzione 20 miglia, questo sempre per lavori. E torniamo sul nostro territorio. Dopo la sospensione forzata provocata dal lockdown, ha ripreso la sua attività il cantiere per la riqualificazione dei giardini di Piazza del Buono a Chiavari. In queste ore gli operai stanno realizzando il tracciato in cemento di quelli che saranno i vialetti del parco. Completato il piano del campo da basket e l'impianto di illuminazione, i lavori si concentrano ora sul nuovo parco giochi e su un nuovo campo multifunzionale. La conclusione dei lavori è prevista per l'autunno, ma abbiamo fatto il punto con il sindaco. Sono in corso in questi giorni tutti i lavori di sfalciatura ed è in corso la gettata del nuovo campo polivalente e anche di tutti i percorsi ciclopedonali della piazza. Si tratta di un intervento, ho fatto anche un incontro settimana scorsa con i quartieri residenti. Adesso a breve stanzieremo le risorse per ampliare il parco giochi per i bambini. In via canale e anche per completare il verde. Si era parlato anche degli spogliatoi, dei locali sotto la superficie. Anche su quello c'era il problema delle risorse. Che decisioni avete preso? C'era il problema delle risorse, ma più caldo c'è anche un problema di sicurezza. In quanto sono locali non accessibili ai disabili e che possono creare problemi di sicurezza. Allora abbiamo deciso di coprire e di creare i bagni sulla piazza. Abbiamo circa 400 metri che sistemeremo adesso con ghiaia, livellato, con tutti i lacci fogliari, eccetera. Abbiamo fatto, come dicevo, un incontro con i residenti, con il quartiere del comitato di Ri delle Feste. Se loro si sentono in grado di gestire un piccolo circolo sulla piazza, siamo disposti a creare la struttura e dare la ingestione. Come è successo già in altri centri di aggregazione della città. Altrimenti l'idea è quella di mettere un chiosco con servizi pubblici per fare una piazza dove fare un'attività commerciale con feste tipo il Parco Talassano. Che tempi ci saranno adesso per la conclusione e il proseguo dei lavori? Allora, i lavori attuali dovrebbero finire in circa un paio di mesi. Nel frattempo stiamo trovando le risorse per completare, come dicevo prima, il Parco Giochi, che vogliamo farlo veramente di qualità. Però queste cose vanno di pari passo. Io penso che nel mese di ottobre potremo inaugurare la piazza, che sarà un centro di aggregazione per tutte le fasce d'età. Abbiamo il campo da bocce, quindi per le persone più anziane. Abbiamo il campo polisportivo gratuito per i ragazzi adolescenti. E il Parco Giochi per le famiglie e per i bambini. Quindi riteniamo un'importante piazza per tutto il quartiere. Sono terminati i lavori di efficientamento energetico agli impianti di riscaldamento e di illuminazione della Scuola dell'Infanzia di Chiesa Nuova a Ne. Nello specifico è stato sostituito la vecchia caldaia GPL con una pompa di calore che permetterà di ottenere, oltre ad un miglior rendimento a livello di riscaldamento, anche un notevole risparmio energetico. Stessa logica con la quale si sono andate a sostituire le lampade dell'edificio con nuovi corpi illuminanti a LED, sia appunto nelle aule che nel tratto di via San Biagio, che porta alla Scuola tra le località Conscienti e Chiesa Nuova, oltre 50 mila euro, la spesa complessiva dell'intervento. Ed è stato completato, dopo oltre un anno di lavori, il restauro alla Cassa Processionale della Chiesa di San Giorgio a Moneglia. Il complesso scultoreo di metà Settecento che raffigura il santo a cavallo, mentre trafigge il drago, è un'opera di valore artistico e soprattutto affettivo per i monegliesi. Siamo andati a vedere il risultato dell'intervento di restauro. Un restauro lungo, impegnativo e costoso, ma necessario per restituire alla Cassa Processionale di San Giorgio lo smalto originario. L'intervento, condotto dalla soprintendenza ai beni culturali della Liguria, è stato il primo da quando l'opera è stata portata da Genova nella chiesa di San Giorgio a Moneglia, intorno al 1840. E nel 1945 è documentato un restauro effettuato dall'artista Garaventa. Probabilmente la policromia che noi vediamo attualmente risale a quel momento. Probabilmente l'opera non è stata dipinta nel momento in cui è stata creata. L'intervento ha previsto una pulitura dall'ossidazione della vernice, l'intaglio delle parti danneggiate, la reintegrazione pittorica e una verniciatura finale. Operazioni lunghe e non semplici. Principalmente per le dimensioni della Cassa, che hanno comunque previsto un lavoro di un anno e mezzo. Quindi sì, impegnativo diciamo. Dal punto di vista strutturale l'opera è ben bilanciata, ben solida, comunque vedendola così da fuori è molto dinamica. L'opera è stata ben eseguita sia da un punto di vista scultorio sia da un punto di vista costruttivo. Tutte le parti in legno sono state assemblate in più pezzi e devo dire che è anche sana come struttura. Il restauro è costato 39 mila euro, la metà reperiti attraverso un bando che ha finanziato attraverso la compagnia Il San Paolo circa la metà del costo totale. Il resto è stato poi messo dalla parrocchia. La parrocchia ha garantito, poi la confraternita per esempio ha fatto delle cene, è ricavato, è stato richiesto ai singoli parrocchiani di contribuire. Uno sforzo consistente ma necessario per un'opera a cui i parrocchiani di San Giorgio e Monegliese in generale sono molto legati. Oltre al valore affettivo la cassa ha infatti anche un discreto valore artistico. L'opera del 1750 è di Pietro Galeano, uno dei più bravi allievi del Maragliano. Penso che tutti i Monegliesi, anche i nostri turisti più affezionati, abbiano visto almeno una volta nella vita questa bellissima cassa processionale e credo ne siano rimasti tutti piacevolmente colpiti. E quindi è un'opera veramente di grande valore. La gente vedo che è molto legata a San Giorgio e in modo particolare anche a questa cassa processionale. Si è svolta di recente la prima conviviale del nuovo direttivo del Pannatron Rapallo Tiguglio Occidentale che unisce i comuni di Santa Margherita Ligure, Zoagli, Rapallo e Portofino. Alla serata ha partecipato il giornalista sportivo Emanuele Dotto. Nel corso dell'incontro sono stati presentati i nuovi soci e gli obiettivi da raggiungere. Sentiamo. Nel programma del nuovo consiglio direttivo del Pannatron Rapallo Tiguglio Occidentale ci sono la volontà di aumentare il numero dei soci e sostenere i giovani. Punti illustrati dal presidente Adelindo Molinari nella prima conviviale del 2020 che si è svolta nel giardino dell'Hotel Europa. Avremmo dovuto fare la prima conviviale il 28 febbraio. Purtroppo poi gli eventi del Covid ci hanno bloccati come hanno bloccato tutte le attività sia sportive, commerciali e professionali. Stasera è la prima conviviale che facciamo per il bienio 2020-2021 con la nuova gestione del nuovo consiglio direttivo di cui io sono orgogliosamente presidente. L'obiettivo di Molinari è di arrivare a fine anno a 40 iscritti. Nella serata del 9 luglio ne sono stati nominati 7. L'ingresso di nuovi soci permetterà al club di crescere e di incidere maggiormente sul territorio e porterà la filosofia del Panathlon come l'applicazione del fair play soprattutto nelle scuole. In questo senso il primo atto del nuovo consiglio direttivo sarà l'accordo con l'Istituto Liceti di Rapallo per l'istituzione di una borsa di studio intitolata alla professoressa Loredana Piaggio per aiutare uno studente del liceo sportivo ad affrontare l'università. La serata si è poi chiusa con un intervento del giornalista Emanuele Dotto che tra le altre cose ha fatto il punto sulla situazione di difficoltà del mondo sportivo soprattutto dilettantistico. Il mio pensiero è che faticano, faticano tremendamente. Avere aiuti è difficile, sponsorizzazioni latitanti, gente che scappa in seguita da creditori. Quindi credo che sia un momento molto molto precario, molto molto difficile. Bisogna stare uniti, concentrati, forse parlare di meno e fare di più. Una serata come questa, organizzata dal Panathlon, aiuta ad unire lo sport e non solo? Direi di sì. Quindi Molinari è stato bravo a riannodare i fili che si erano brutalmente strappati. Insomma un po' tutto il tigulio che cerca di ripartire. E a Rapallo c'è tempo fino al 22 luglio per prenotare un posto alla cena sotto le stelle che il sestiere Cappelletta di Rapallo ha deciso di organizzare per festeggiare Sant'Anna. L'appuntamento è fissato per il 25 luglio alle 20.30 nel campetto di via Fico 3. Una serata più intima e ristretta rispetto all'anno scorso a causa delle normative anticontagio ma all'insegna della buona tavola è alietata dalla musica di Stefano Garofano. Il numero delle prenotazioni da chiamare è il 335 59 54 769. Guardiamo adesso i giornali in edicola questa mattina con la nostra rassegna stampa. Ci vediamo dopo per altri aggiornamenti e servizi di sport. Il peso del vuoto, questo è il titolo principale della prima pagina di Avvenire. Il bilancio ISTA del 2019, nascite ancora giù di 20.000, un record negativo. Mani unite a superare gli orrori del passato. Mattarella è il leader sloveno, ricordano i morti del fascismo e delle foibe di Tito. E poi ancora Conte Merkel, sintonia ma divergenze sul piano, sul recovery found. Il difficile vertice di venerdì, oggi le nuove misure per prevenire i focolai del virus. Sulla vicenda autostrade oggi non si decide, ipotesi revoca e il governo rimane diviso. E poi il Papa si dice addolorato, divide Santa Sofia, la moschea che ritorna ad essere moschea appunto in Turchia. E altre proteste anti Erdogan. Terni, i nostri figli vittime di overdose per inganno, parlano i genitori dei due ragazzini morti appunto per droga in Umbria. E parlando invece della denatalità, meno 19.000 nati in un anno, sempre più italiani in fuga. L'ISTAT certifica un nuovo record negativo all'unità d'Italia. Nel 2019 le nascite sono state appena 420.170. I residenti che hanno deciso di trasferirsi all'estero sono stati 182.154, con aumento del 16,1 rispetto al 2011. Stefano Lepri, deputato del PD, dice questo passo chiudono asili scuole, servizi pubblici, calano i consumi e il PIL, mentre le pensioni non potranno più essere garantite. E siamo invece sul secolo XIX di oggi, che titola autostrade troppe le tensioni. Il voto del governo può slittare. Oggi il Consiglio dei Ministri ci sarà un'informativa al titolo della Capogruppo Atlantia, crolla del 15,19%. Distanziamento sociale, anche un po' politico, tra la Merkel e Conte, che si riuniscono ma non trovano la giusta convergenza. Merkel e Conte, Italia disciplinata, ma sul Recovery Fund è negoziato in salita. Covid, discoteche chiuse, obbligo di mascherine, ottimismo invece sul vaccino. Mentre invece interviene Gabriella Eraldi sulla questione delle statue distrutte, soprattutto negli Stati Uniti. Chi contesta Colombo dimentica che fa parte dello stesso cammino. E poi ancora Mattarella e Paor come Cole Mitterrand, simboli dell'Europa. E Pellissier, che salva Lentella in una serata che sembrava avesse molto male, pareggia in extremis col Pisa a Chiaveri in Serie B. E poi, Durante, che guida gli industriali, Bixio sarà vicepresidente. Andiamo a vedere, appunto, al suo fianco c'è Bixio, eletta come vice. Sacco, il mio successore, sarà un'ottima guida, aiuterà il territorio a crescere. Assemblea pubblica il prossimo 1 ottobre. Vediamo qua il nuovo presidente e il presidente uscente. E chi è Giancarlo Durante? Durante 59 anni, sposato due figli, direttore generale di AS durante sprone e colleghi a investire nel Tiguglio per sconfiggere i limiti. Ripartiamo da chi sfida carenze e fragilità territoriali. Le vere tematiche e le aree tematiche saranno sviluppate attribuendo deleghe ai vari consiglieri. Andiamo a Santa Margherita Ligure. Sulle alture Nozzarego, lavori e campanile del santuario. Il consolidamento non poteva aspettare. Nei giorni della festa patronale del Carmine. Appello alla comunità perché sostenga lo sforzo. 150 mila euro il costo in totale degli interventi. Adesso per gli aggiornamenti andiamo in redazione con Maurizio Garrefa. Grazie Andrea, un saluto a tutti. Parliamo del piano caldo 2020. Sono 1838 le persone residenti in Liguria che sono a rischio in caso di ondate di calore. Un numero molto preciso. Sono state individuate nell'ambito del piano caldo elaborato dall'Agenzia Sanitaria della Regione Liguria da attivare in caso di bollettino arancione o rosso. L'obiettivo è proprio quello di mettere in campo delle azioni dedicate. Complessivamente nella nostra regione sono oltre 182 mila le persone che in una scala che va dal rischio basso a quello alto possono essere suscettibili alle ondate di calore. L'ASL 4 registra più di 16 mila persone con rischio basso, 493 a rischio intermedio, 133 a rischio alto. Nei prossimi giorni sui siti delle ASL della Liguria sarà presente una pagina dedicata anche con i consigli su come affrontare la situazione di caldo delle prossime settimane. È tutto a te Andrea. Veniamo al calcio adesso per la Serie B. La Virtusentella ciuffa in estremis il pareggio al Comunale di Chiavari contro il Pisa. I Biancoceresti in svantaggio dal nono minuto di gioco con la rete di Luca Vido riescono ad agguantare il punto solo al 94esimo grazie al gol di Michele Pellizzer. I chiavaresi che si assestano a 42 punti in classifica giocheranno nuovamente venerdì alle 21 ad Empoli. Sentiamo i commenti a fine gara. Quanto pesa il gol di Pellizzer in ottica di questo finale di stagione? Pesa secondo me il giusto in una partita che sarebbe stato veramente crudele perdere perché abbiamo condotto sempre una gara, abbiamo fatto un errore iniziale, abbiamo preso le redditi nel gioco in mano e abbiamo, tra virgolette, chiuso quasi sempre il Pisa che è comunque una grande squadra e non siamo riusciti a fare gol fino al 94esimo. Il problema è che comunque abbiamo prodotto, la nota positiva è che rispetto a Castellammare, a secondo tempo di Castellammare dove comunque io ho anche un po' punto, pungolato la squadra, volevo una risposta dal punto di vista nervoso, mentale, la squadra mi ha dato una grande risposta. Poi c'è stata una grande esultanza, quasi rabbiosa da parte di tutta la panchina e di tutto lo staff. Sì, ci voleva perché ci abbiamo creduto fino alla fine, nonostante lo scoraggiamento un po' durante il secondo tempo perché vedevamo che non riusciva a entrare, è stato un premio che ci siamo fatti, però non dobbiamo essere contenti perché secondo me era una partita da vincere, nel secondo tempo abbiamo strameritato, anche nel primo tempo loro hanno fatto poco, hanno fatto quello che dovevano fare, sono stati più cinici di noi e dobbiamo imparare un po' anche da loro. Ecco, è un momento naturalmente in cui i punti hanno un peso specifico molto importante, Lentella ha giocato e giocherà contro tutte le squadre che lottano per qualche obiettivo, chiaramente i dettagli faranno una differenza. Sì, anche i punti iniziano a pesare perché vediamo dietro continuano a correre e quindi non so se una vittoria basterà e quindi dobbiamo fare punti a maggior ragione con le dirette avversarie. Ora pensiamo all'Empoli, poi arriverà il Perugia qui in casa, quindi sono tutti scontri importanti e dobbiamo metterci in testa che ci dobbiamo mettere un po' più di cattiveria magari in ogni palla per portare a casa questa salvezza. Si conclude così questa edizione di Teguli Oggi, l'informazione torna questa sera a 19.15, continua sul nostro sito teleradiopace.com e il canale 187 Telepace News. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata. Grazie. Grazie.